Tutto pronto per l'ottava corsa, è il preludio alla gran finale a tre del Tommaso Grassi Award, un intervallo dedicato ai gentleman che partecipano con cavalli di tre anni non vincitori di 5.000 euro in carriera. Corsa apertissima, sono in sette alla via, uno è il gatto Jet Matteo Zaccherini, due Eldorado Napp, Luigi Veneruso, tre Exclusive Wise L, Leonardo Vastano, quattro Ernaldo Benal, Marcello Becci, cinque Etienne La Torre, Antonio Vitiello, sei Helmut, Roberto Michelotto, sette Ejolo, Giovanni Ghirardini. Con cautela Helmut, si parte velocissima Etienne La Torre che cerca di scavalcare Ernaldo Benal, quale va secondo alla corda, terza posizione per Exclusive Wise L che precede il gatto Jet, mentre ha sbagliato Ernaldo Benal, che lascia così in seconda posizione Exclusive Wise L, terza posizione alla corda per il gatto Jet che precede il Dorado Napp, quindi Ejolo all'esterno, prova a risalire Helmut. 14,4 per il lancio, Etienne La Torre ha preso la testa di slancio e ora rallenta il ritmo in maniera anche drastica. 15,6 la seconda frazione, 30 i primi 400 metri, Etienne La Torre che deve riaprire i rubinetti perché sta arrivando al suo esterno Helmut con decisione, rimane secondo in corda Exclusive Wise L che precede il gatto Jet, quindi Eldorado Napp e Ejolo. 600 in 45,5, passaggio davanti alle tribune con Etienne La Torre che cammina per farla pesare ad Helmut, che arriva al Salchi della battistrada, il giro se ne va in un minuto spaccato, secondo in corda è sempre Exclusive Wise L che precede il gatto Jet, sulla curva di destra non cambia nulla, se non che dall'ultima posizione Ejolo cerca di scavalcare il Dorado Napp, intanto Etienne La Torre continua ad andare via di gas, 1,15 il primo chilometro, Helmut sempre al suo esterno, poi Exclusive Wise L, quindi il gatto Jet, a metà della retta opposta alle tribune, Etienne La Torre è richiesto, sposta è il gatto Jet che va in scia ad Helmut, la piegata è passata in 14,6 e Tien La Torre che continua a camminare davanti, Helmut che va in scia, poi è il gatto Jet, Tien La Torre che si mantiene in evidenza, anzi guadagna qualcosa nei confronti di Helmut che ha avuto percorso durissimo, la retta d'arrivo per Etienne La Torre che prosegue in vantaggio, Helmut che prova ancora in seguirlo, poi il gatto Jet, Etienne La Torre in vantaggio, ma è stanco, Helmut di dentro, a largo di tutti il gatto Jet che scatta, lo scatto di El Gatto Jet, Etienne La Torre prova la difesa, esiste il gatto che sbaglia, Etienne La Torre che vince nei confronti di Helmut al terzo posto è Iolo, 31,6 ad arrivare, 15,4 raguaglio cronometrico, Antonio Vitiello che ha tenuto ritmo selettivo tutta strada, l'ha fatta pesare a Helmut, è stato poi vittima dell'attacco cattivo di El Gatto Jet che però nel tentativo ultimo e disperato di passare si è gettato di galoppo e così la vittoria è tutta per Etienne La Torre, Antonio Vitiello perfetto a scappar via Andrea Esposito e i colori della scuderia Indal, la vittoria di Etienne La Torre, Antonio Vitiello Eccolo Vitiello